Salve a tutti ragazzi, io sono Mark Player e oggi siamo su Five Nights at Freddy's Sister Location Premere il testo rosso per dare una scossa motivazionale Cosa? Perché vogliono che te si pensi se arrabbi con me? Per il testo premere 3, per le opzioni premere 4 Dove sono i numeri? Ehi, bebe, bebe, bebe torna subito qui Oh no Non ti riconosco, sei nuovo? Ricordo questo scenario Chi va là? Chi vuole affrontarmi in una battaglia fino alla morte? Sono letteralmente con le spalle al muro Salve Bebe? Ne 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 Ma allora, ne 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 Non uccidermi, ne 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 Non preoccuparti per me, ci penso già io abbastanza E ignora le urla Urlo quando sono nervoso Ce l'abbiamo fatta Siamo i migliori del mondo E siamo amici per... Oh, sempre, ok Grazie per aver selezionato Burro esotico Oh mio dio, bebe è vicina Oh merda, questo è Five Nights at Baby Sì Sì, cazzo, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Sì Ho finalmente il mio burro esotico Sì Ho il dolce sapore della vittoria Ancora questo, figlio di puttana Beh, ce l'ho fatta Mettete sulla mia testa una corona E chiamatemi Il re E Fai via Terpredi Ehi Welcome back Back, back, back Back, back But we need to life for just Fast, fast, fast Big Sonic Eat a blast To tail the job We need to life for just Fast, fast Big Sonic Butters 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 Butters